vai 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 stiamo chiusi perchè? dai perchè? come? dai non ti fa un altro rotto dai avvicinate però ma io ti faccio meglio i rotti aspetta ma questo è schiavato allora fallo dai dai mi pare che ti dico quando devi fare il video metto un pausa ma pure volendo ho sterilizzato come io ha fatto ci? no basta ho sterilizzato fa male salvo manco ti avessi fatto una vipa ti fanno male le palle eh Pinocchio Pinocchio che cazzo sta facendo? levate levate la signora Flora ah ma si che li sta ma si che li sta ma si che li sta ma ne vedi che addominale che c'ho i peli del ficello i peli del ficello questo lo metto su youtube ti faccio vedere c'ho le mutande a vita bassa però davvero c'ho le mutande a vita bassa ah si sono si ecco perchè ci credi ti fa fastidio la luce Massimo guarda non guarda questo questo è un bambino e ti fa fastidio la luce Massimo ma ti fa bene dove lo vinciono guarda stai non so a vita bassa questo vedi quanto soffine io metto su youtube so troppo comodo so a vita bassa ah ma portate fatemi il saluto generale oh Emanuele aspettaci fatemi il saluto generale dai